Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online, a cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ci siamo presi qualche giorno di relax in questo weekend più ponte e ritorniamo più carichi di prima con la nostra puntata del mercoledì. Sapete che ogni mercoledì si parla di libri, ma non solo si parla di libri, qua ve li regaliamo i libri, abbiamo la possibilità di scoprire insieme un nuovo libro, scoprire un testo che in una modalità diversa da quella dalla quale magari impariamo tutto il giorno guardando video, leggendo blog, ci consente di imparare qualcosa. Il caro vecchio libro di carta e poi dopo averlo scoperto e dopo aver individuato quali sono, quali possono essere i possibili vantaggi che la lettura di questo libro può portare al nostro business o alla nostra vita per avere una maggiore consapevolezza di come si fa marketing e business nell'era digitale, diamo la possibilità di partecipare all'estrazione di una copia di questo libro. Oggi parliamo di un testo storico, la mucca viola di Seth Godin e sono contento di parlarne perché l'avevo più volte lisciato così, l'avevo visto, ne parlo, non ne parlo, beh ormai è un testo datato, forse non vale la pena, forse è meglio parlare di un testo più recente e invece proprio oggi me lo sono trovato nella classifica dei libri più acquistati e letti su Amazon nel campo delle strategie di business ho detto basta ragazzi, ne parliamo finalmente, quindi scopriremo insieme questo testo che è un testo storico ma che non ha smesso di avere potenzialità per chi vuole ragionare in un'ottica strategica. Prima di parlarne voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove venire a iscrivervi al nostro podcast ma soprattutto dove trovate il link al canale Telegram per ascoltare Strategia Digitale e beccarvi anche tutti gli extra legati alla creazione del nostro podcast ma anche il canale diretto per inviarmi le vostre domande, il video tutorial su come lasciare le recensioni, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi venite su strategiadigitale.info ma soprattutto visto che voi siete fedelissimi ascoltatori, mandateci i vostri amici, fategli un bel piacere se volete fargli acquisire consapevolezza delle potenzialità ma anche dei pericoli legati all'utilizzo del digitale nel business siamo qui per voi ma ora bando alle ciance è arrivato il momento di scoprire il nostro libro del giorno e in particolare La mucca viola di Seth Godin Questo è un libro veramente storico, come vi dicevo la mucca viola Purple Cow è un libro, fammi vedere quando è uscito, nel 2011, 2011 pensate eppure è uno di quei libri che non perde il suo fascino, a oggi continua a essere nella classifica di Amazon tra i libri più apprezzati da chi vuole avere un atteggiamento strategico rispetto al proprio business chi vuole ragionare fuori dagli schemi, chi vuole avere nuovi spunti vi dico per me, dal mio punto di vista, perché vale la pena leggere questo libro prima di tutto una piccola parentesi sul titolo che vuol dire la mucca viola? non è che stiamo facendo l'elegia della mucca, quella della milca ve la ricordate? La cioccolata milca con la mucca viola no, mucca viola è la traduzione di Purple Cow mucca viola, punto in inglese e Purple Cow inizia con la P perché è importante la P? perché sapete che nel mondo del marketing ci sono queste la regola delle 4P, delle 5P, delle 6P queste P diventano sempre di più e lo stesso Seth Godin suggerisce una P aggiuntiva quella di Purple Cow Purple Cow, la mucca viola, è l'immagine di qualcosa che ha la forma di qualcosa che conosciamo la mucca, no? se ti dico la mucca, tu immagini una mucca ti è facile riprendere nel tuo cervello l'immagine della mucca capire a che cosa serve la mucca proprio stamattina portavo a scuola le mie figlie gli raccontavo la storia di Giacomino e il fagiolo magico e nella storia di Giacomino e il fagiolo magico c'è una mucca di mezzo che era l'unico mezzo di sostentamento per Giacomino e la sua mamma quindi la mucca fin da quando siamo piccoli ce l'abbiamo presente ma la mucca viola è qualcosa che conosciamo dato in un modo che ci lascia a bocca aperta dato in un modo che non ci aspettiamo dato in un modo che attira la nostra attenzione che ci fa raccontare ad altri ma lo sai che ho visto una mucca viola? ecco, io lo chiamerei il fattore wow il fattore wow perché è importante questo fattore wow? perché noi quando iniziamo a fare business quando vendiamo prodotti o servizi online possiamo decidere di focalizzare la nostra comunicazione la nostra azione di marketing per esempio sul prodotto allora quando vado a focalizzarmi sul prodotto come fanno direi forse il 70% l'80% di coloro che vendono prodotti o servizi online parlo delle feature del prodotto il mio prodotto è questo il mio prodotto è quell'altro il mio prodotto fa questo che è sottointeso e gli altri non lo fanno quindi parlo del prodotto parlo di come il prodotto può essere usato di quali possono essere i vantaggi legati al prodotto delle caratteristiche del prodotto queste caratteristiche possono essere funzionali il mio prodotto ha la possibilità ha questa funzione in più che attivi premendo il bottoncino sotto al prodotto naturalmente parliamo anche dei servizi la stessa cosa ti offro una cosa in più che gli altri non ti offrono oppure possono essere estetici delle feature estetiche il mio prodotto è più bello il mio prodotto è addirittura può tramandare del significato può trasportare un significato per esempio il mio prodotto è elitario il mio prodotto è per pochi ecco questo è una comunicazione un marketing fondato sul prodotto ora tutto bene va benissimo il problema è che siccome l'80% delle persone fanno questo se facciamo un marketing e una comunicazione basata sul prodotto sarà difficilissimo che le persone si ricordino il nostro prodotto perché sarà difficilissimo perché o ci mettiamo lì in una tabella comparativa in cui le persone possono confrontare le nostre feature con le feature degli altri o sarà una rincorsa a raccontare quell'ulteriore feature avete visto che molti prodotti vengono modificati solo per poter dire che hanno quella funzionalità in più nella nuova versione ecco non ci porta da nessuna parte se pensiamo al concetto di leva la leva è una cosa che più tu aumenti la distanza tra i due fuochi della leva i due estremi della leva più la leva si allunga e diventa potente diventa capace di sollevare grandissimi pesi per esempio ecco in questo caso la leva si allunga nel momento in cui il mio prodotto ha sempre più feature e non è una cosa virtuosa cioè un prodotto non è detto che debba avere sempre più feature il sacchetto della spazzatura deve fare il sacchetto della spazzatura non si deve rompere deve essere capiente il giusto né troppo grande né troppo piccolo e mi deve consentire facilmente di tirarlo fuori dal secchio e buttarlo nel cassonetto al massimo possiamo metterci l'elemento ecologico deve essere un sacchetto che non inquina l'ambiente può essere un sacchetto profumato ma dove possiamo arrivare? quante feature possiamo mettere su un prodotto di questo tipo? molte volte anzi i prodotti funzionano bene perché nella loro semplicità diceva il mio carissimo amico Filiberto Scarpelli questo prodotto è fantastico perché fa solo una cosa e la fa bene siccome ne fa solo una la fa bene un altro approccio al marketing alla comunicazione dei prodotti o servizi invece è quello smart quello figo quello che le persone più aggiornate che si documentano di più ti portano lì a dimostrazione che loro fanno nel marketing innovativo wei Gaudiano noi la nostra comunicazione non la basiamo mica sul prodotto la basiamo sul target sulle persone lo dici sempre pure tu ecco la comunicazione basata sulle persone è apparentemente un passo avanti rispetto a questo punto al parlare del semplice prodotto perché? perché va a cercare di indagare i vantaggi che le persone possono ricavare dal nostro prodotto o servizio o ancor meglio va a cercare di intercettare i bisogni le necessità del nostro pubblico di riferimento per costruire e disegnare dei prodotti su quelle necessità su quei bisogni e quindi vengono fuori dei prodotti che fanno l'esatto match con le aspirazioni le necessità i bisogni i problemi del nostro pubblico di riferimento questo è il modello per esempio del value proposition design il value proposition design creato da Alexander Osterwalden ne abbiamo parlato in un libro che vi ho presentato ormai penso un anno un annetto fa ma sì più o meno sarà un annetto fa value proposition design costruisce un profilo del mio cliente del cliente al quale del mio target di riferimento del cliente al quale vado a comunicare e su questo profilo costruisce in maniera speculare un prodotto con delle caratteristiche particolari e poi realizza il match tra queste due tra queste due identikit tra questi due profili il profilo del cliente e il profilo del prodotto questo approccio è sicuramente più smart rispetto a quello fondato sul prodotto però manca qualcosa perché io ti potrei mettere in crisi dicendo ma le persone avevano veramente bisogno dell'iPhone come ha fatto Steve Jobs a capire che le persone avevano bisogno dell'iPhone ecco già questo comincia a inclinare tutto perché tu non puoi su un'innovazione ragionare in ottica predittiva se tu ti limiti a studiare quali sono i bisogni reali a cercare di tirar giù tutti i segni che sono manifestazioni di quel bisogno di quella necessità e crei dei prodotti su quei bisogni non hai la possibilità di andare verso qualcosa di nuovo ed è qui che entra in gioco la nostra mucca viola grazie a Seth Godin l'idea della mucca viola è che tu offra attraverso i tuoi prodotti e servizi qualcosa di wow che ti fa dire wow dato in maniera wow cioè portato al cliente in maniera wow e che ti fa sentire wow ora scusate questo wow che ricorre ma è il mio modo di decodificare il discorso della mucca viola infatti l'avrei tradotto questo titolo visto che non potevi conservare l'ap l'avrei tradotto con l'effetto wow l'idea è proprio l'effetto wow quello che quando vedi una mucca viola qualcosa che capisci come la mucca capisci che è una mucca ma ha un colore che assolutamente non ti aspetti quindi non qualcosa che ti lascia disorientato qualcosa di lontano dai tuoi bisogni dalle tue necessità lontano dalla tua capacità di capirlo qualcosa di assolutamente talmente innovativo che non ti serve ecco non è qualcosa di questo tipo è una mucca e tutti sappiamo che una mucca serve sempre ma data in maniera wow che ti fa dire wow quando entri in contatto con lei fondamentalmente ci sono tre posti dove devi piazzare questo wow nelle caratteristiche del tuo prodotto o del tuo servizio nel modo di darlo questo prodotto o servizio e nel modo nel nel modo di sentirsi della persona che lo fruisce nella capacità di suscitare nella persona un'esperienza unica un'esperienza che ha bisogno di essere raccontata appunto un'esperienza wow se ci pensate pensate all'apple l'apple store i prodotti apple sono stati da steve jobs con gpd proprio così un qualcosa l'iphone un qualcosa che assomiglia al tricorder dei star trek quindi un prodotto che ha la forma innovativa che ha la forma capace diciamo che a livello simbolico ci ricorda qualcosa che abbiamo visto nei film che parlano del futuro portato a noi in maniera assolutamente nuova attraverso un computer shop un telephone shop che sembra non lo so una vetrina di cartier dei negozi disegnati in maniera totalmente innovativa con una dinamica innovativa con una dinamica completamente nuova di accogliere le persone all'interno del negozio di servirle di portare il prodotto ecco tutto questo tutto questo processo alla ricerca di suscitare l'effetto wow che poi nel tempo può anche andare scemando quindi non è che una volta che hai trovato l'idea per l'effetto wow è finita ti puoi mettere in poltrona per sempre questo effetto ha anche l'altro lato della medaglia che è la necessità di sempre cercare di innovare da questo punto di vista trovare sempre un nuovo modo di suscitare questo wow ma la potenza di avere in sé il marketing organico il marketing naturale quello proprio che cresce così il prodotto dal campo cresce alla foglia del marketing già sviluppata che cosa voglio dire che quando noi entriamo in contatto con un prodotto wow che viene portato a noi e ci viene offerto in maniera wow e che ci fa sentire wow andiamo a raccontarlo agli amici andiamo a dirlo al nostro collega andiamo a raccontarlo in giro ne parliamo sul nostro blog in maniera naturale organica si fa la comunicazione di questo prodotto allora al contrario per chi di noi si occupa di comunicazione potrei dire io per esempio faccio così quando parlo con un cliente che mi dice ah no io ho questo prodotto fantastico con delle feature eccezionali molto meglio di quello della concorrenza io gli chiedo ma il tuo prodotto fa dire wow alle persone alle quali lo offre che effetto fa a queste persone ne parlano in maniera naturale andiamo a vedere che conversazioni ci sono a proposito di quello che fai perché se non ne parla qualcuno magari il più bel prodotto del mondo eccezionale delle feature incredibili ma sarà molto faticoso comunicarlo molto faticoso portare l'attenzione su questo prodotto perché se in maniera organica non hai nulla non riesci a far parlare di te dovrai farlo tutto a pagamento e sarà una fatica se invece in maniera organica il tuo prodotto è una mucca viola qualcosa che fa parlare di sé allora comunicarlo verrà veramente semplicissimo l'investimento economico sarà solamente un'amplificazione di quello che avviene in maniera naturale e per me questo è il senso dell'advertising è un aiutino un'amplificazione un megafono che viene messo davanti a una bocca che però già di per sé trasmette un messaggio capace di infiammare i cuori siamo arrivati alla fine del nostro episodio spero di avervi intrigato con questo ragionamento sulla mucca viola di Seth Godin e se l'ho fatto venite a vincere il libro umediaweb.com slash libro in regalo e trovate tutte le istruzioni per partecipare all'estrazione del libro se siete in macchina non vi preoccupate di prenderne nota perché trovate come sempre il link nelle note dell'episodio e prima di ringraziarvi e salutarvi voglio ringraziare coloro che producono strategia digitale coloro che lo finanziano coloro che consentono a te di vincere ogni settimana un libro che parla di marketing di strategia di business di comunicazione online e sono vpok.it Francesca Traverso Roberta Andreoni Matteo Neroni Franco Nicosia Fabrizio Guidi Marzia Tomasin Paolo Pugni Beatrice Biasuzzi Nicolo Ravanelli Federico Izzi Cristian Manganelli Davide Brenna Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Alessio Casarolli Fulvio Iulita Agata Amato Jacopo Livia Olio Poldo Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Vagliengo Silvia Zeta Mariano Lampis Gianluca Gorlani Mauro Arizzo Lorenzo Mari Rodolfo Manacelli Max Saggia Pilloleitecnologia.it Marco Bazzo Marco Paolini e Daniele Risi E poi tantissimi altri produttori che anche solo con un dollaro al mese si portano a casa la possibilità di vincere un libro ogni settimana ma soprattutto sostengono questa iniziativa di divulgazione della consapevolezza rispetto all'utilizzo del digitale nella vita e nel business. Allora grazie ai nostri produttori per diventare anche tu produttore beh non c'è niente di più facile vai su youmediaweb.com slash finanzia e scegli tu in che modo essere produttore e voglio dire ai nostri produttori dalla fascia dei webinar in su che il webinar mensile di approfondimento e quell'ora di lavoro che ci prendiamo insieme per esplorare una tecnologia, un tool, un software, uno strumento utile al nostro business questo mese sarà giovedì alle 3 e mezzo quindi giovedì 27 aprile alle 3 e mezzo ci vediamo tutti online riceverete come al solito il vostro link per partecipare per parlare questa volta di studio semantico un caro saluto e un grazie anche a Sara Veltri coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it curatore del nostro sound design ragazzi grazie mille e alla prossima Strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano